La Regione Lazio sta avvenendo un maxi sequestro di impianti e discariche. Sappiamo che in questi minuti, in queste ore, stanno sequestrando 10 impianti di rifiuti del Lazio con 25 indagate, con perquisizioni. Ecco, noi vorremmo sapere, anche vista la presenza dell'assessore competente, se la Regione Lazio ha maggiori informazioni su questo delicato tema che potrebbe portare a un disastro inimmaginabile qualora gli impianti fossero quelli che ancora oggi determinano la sopravvivenza, diciamo così, è comunque un pareggio nell'ambito dei rifiuti della Regione Lazio, sapere se l'amministrazione regionale è al corrente di questa cosa e se sta intraprendendo azioni o sa già quali sono gli impianti sequestrati che stanno appunto per essere addirittura chiusi, quindi sequestrati, quindi chiusi, portando forse all'emergenza. Ci sono in mezzo anche i laboratori di analisi, 25 indagati, perquisizioni per 26 milioni di euro. E poi lo vediamo, questo poi lo vediamo dopo. E quindi, assessore, vado al Consiglio Comunale a dire queste cose. E quindi, assessore, vogliamo sapere se l'Aggiunta è a conoscenza del fatto e se ha informazioni più precise rispetto a quelli che circolano negli organi di stampa. Grazie. Consigliere Porrello, siccome mi sembra che...